ciao a tutti eccomi con un nuovo video dedicato all'edicola però prima di farvi vedere cosa ho comprato voglio ringraziarvi perché il mio canale ha raggiunto i 4000 iscritti e quindi voglio dare un bacione grosso a tutti quanti a ringraziarvi e mi fa molto piacere sono contenta che i miei video vi piacciono e quindi ringrazio tutti quanti quelli che mi seguono allora ritorniamo all'acquisto di stamattina in edicola sono ritornati i baby newborn my lovely sono bb più accessori questi qua già li ho recensiti un po di tempo fa e all'interno si trova un neonato con con il cappellino in più degli accessori e costano 5 euro in allegato c'è anche questo giornalino che adesso vi farò vedere allora questi qua però è la seconda edizione perché i cappellini sono diversi da quella della prima edizione vediamo subito allora questo è il male all'interno si parla un po di tutto ecco questi qua sono i nuovi neonati che sono usciti che questa è la seconda edizione in effetti allora abbiamo i unicorn baby che sono stupendi poi abbiamo dear baby quindi questi qua dovrebbero essere dei cervi poi abbiamo raffi baby che dovrebbero essere delle giraffe poi abbiamo hippo baby e poi ippopotamo quindi queste forse hanno il cappellino da ippopotamo poi sharky baby e quindi abbiamo i baby con il cappellino da squalo poi per ultimo pupi baby che a vedere così sembrano koala mi piacciono tutti ma io ovviamente i miei preferiti sono questi due ecco qui questa è la scatola qua abbiamo il koala qua li fa vedere tutti e ci dice pure che ce ne uno speciale la giraffa ecco qua questi ne dico la 5 euro apriamo subito abbiamo trovato l'unicorno è sicuramente femminuccia perché al pannolino rosa rosa bianco col cuoricino rosa e questo è suo cappuccio da unicorno tutto bianco con la criniera rosa e qui sembrerebbe un fiorillino rosa col corno ovviamente questo qui alla boccuccia aperta quindi come accessorio dovrei trovare il ciuccio poi questi quasi tolgono l'unica cosa che mi dispiace è che queste bambole hanno tutti gli occhi chiusi avrebbero dovuto fare meno qualcuno con gli occhi aperti che peccato dormono tutti praticamente eccola questa è bellissima che troviamo infatti abbiamo il ciuccio che è rosa perché quelli la con una bocca aperta portano il ciuccio e poi il biberon bianco e rosa andiamo a mettere ciucciottino eccola come sei bella e questa è la nostra baby unicorn ed è bellissima davvero bellissima ok io vi saluto vi ringrazio ancora per i 4000 iscritti io vi mando un bacione e alla prossima ciao ciao